Ristorante giapponese Tokyo Vieni a trovarci oppure prenota la tua consegna a domicilio in Pinerolo o fuori città Menu fisso a pranzo 12 euro e sconto del 15% sul menu da asporto Puoi prenotare il tuo pranzo o la cena attraverso l'app di Just Eat Aperto dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 23 e 30 con chiusura il lunedì Vieni a trovarci, siamo in piazza Cavour 6 a Pinerolo Per prenotazioni 0121 37 96 18 oppure 331 835 8133 Ristorante giapponese Tokyo Sei stufa della solita tinta chimica? Vuoi qualcosa di naturale? Ti proponiamo la colorazione vegetale al 100% adatta a bionde, brune e rosse Benefici, copertura capelli bianchi, cuoio capelluto pulificato, capelli più forti e sani con colore brillante Vieni a trovarci, Beltramo Conciature, in Viale Cavalieri d'Italia 23, Pinerolo, telefono 393 050 3964 Sì, Quattro